Buongiorno Fiorellini e Fiorellini, oggi è il primo giorno che porto l'orologio per questo qua, che è scuro però se lo so che sopra si illumina, si fa la luce, vabbè si vedono i chilometri, è proprio buono perché c'è un'app pure che mi misura la pressione, chi mi segue da tanto sapete che io soffro di pressione alta, da quando ho avuto la cosa dei bormoni, dice che sono bormoni che è più la passicca la sera da pressione alta, infatti ieri con tutto che ho preso la passicca, prima di prendere la passicca, sono un po' altina, e poi dopo quando mettiamo questo, non l'ho messo ancora, dopo ho messo, ho preso la passicca, ah via la sicla, lo paventico, così metto il cavalletto. Stavo dicendo, dopo ho preso la passicca, dopo un'oretta così, mi sono misurata la pressione, ancora facciamo partire, dopo ho iniziato a uscire, devo andare a fare pipì perché non so chi soffre di pressione alta, prende le pasticche, sono due redditi, non so cosa puoi mandare giù la pressione, mia mamma, mia madre, mi soffre di pressione alta, prendeva delle pasticche e andava al bagno, le prendeva quando andava troppo alta la pressione, mi ha mandato tanto al bagno, perché già la passicche, la cosa da pressione fa quella cosa qua, la prendo la sera perché, a me, prendevo altre pasticche prima, però la sera, ma no altissima, allora il dottore mi ha ricambiato le pasticche della pressione, vabbè, comunque, mettiamo così, ciao, vabbè, va bene corto così, vabbè, va bene, io adesso cammino, faccio un po' di giri, di solito, faccio tre, in un'oretta, e poi, vabbè, oggi proviamo, vabbè, questo orologio che fa la pressione, vede il cuore, che passa il cuore, la pressione, l'ossigeno al sangue, e poi, poi, un sacco di cose, insomma, poi fa, se mi arrivano i messaggi da Whatsapp, da Facebook, mi arriva, mi vibra l'orologio, e se mi scrivo il telefono, mi vibra l'orologio, e so che mi hanno chiamato, se mi mandano i messaggi, si ha, insomma, sì, vabbè, poi, quando si scarica, invece, io devo comprare, da parte, una presa, che c'è il carico, il telefono, perché, questo, col, il coso, me l'hanno mandato, smontato, col cinturino, da una parte, il cinturino, c'è la cosa di infilacce, dentro lo suo, senza filo, solo la presa, e si carica il telefono, come un telefonino, orologio, come un telefonino, vabbè, e, l'ho caricato ieri, mi si sono levato due sacchette, e stanotte mi si sono levato niente, e solo tre, ancora, so, cinque sacchette, le so, non so se l'ho usato tanto per vedere come funzionava, e allora mi si sono scaricato due, non lo so, vabbè, comunque, tutte le volte che io cammino, eh, questo qua, fa, calcola, i passi, le calorie, tutto, lo posso vedere, su quest'app, quando mi voglio, mesura la pressione, è molto utile, soltanto che devi essere sempre attaccato, col telefono, la, l'orologio, quanto io, il telefono, me lo porto sempre, e, va bene, per ora, vi lascio, ci vediamo, come sempre, dopo che ho camminato, e usciamo dal parco, ciao, a dopo. Ecco, adesso, ho finito da camminare, e vado a casa, ho fatto tre giri, e, sì, è un po' è, tutto, perché poi, io l'ho bloccato quello lì per camminare, però, sull'orologio, sa camminare, tutta la giornata, i passi che faccio durante la giornata, i calorie che consumo, camminando, po', poi, ti arrivano le notifiche, dei, i messaggi, se ti chiamano anche tu, non puoi, se ti tieni il telefono dentro la borsa, fa conto, tu sai, che ti hanno chiamato, che, dopo vai al telefono, vedi, te lo scrivi, eh, per esempio, ieri abbiamo provato, è comparso che mi stava a telefonare, il messaggio quale, se è Facebook, se ti dice Facebook, e, vabbè, comunque, la sono usata ieri, vediamo, vediamo, vediamo pure quanto dura la batteria, perché dopo, lo dove va, lo metto a caricare, come telefono, comunque, è molto utile, specialmente, per, io l'app, su telefono, non ce l'ho più, ce l'ho all'app, perché ho, quella app che mi, sono scaricata per far funzionare l'orologio, che mi arrivano le notifiche, mi arrivano tutte queste cose qua, e, non lo so, se, funziona, con tapasi, pure senza, con l'app, non lo so, vabbè, comunque, eh, adesso vi posso lasciare, perché è fine di questo video, grazie alle persone che l'hanno visto alla fine, e ciao, al prossimo video, ciao! Ciao!